In attesa dei colpi importanti e di qualche necessario addio, dopo quello già certificato di Carolinetti, partito alla volta del Torino, la Samp presenta il primo innesto ufficiale a disposizione di Ranieri, il danese Mikkel Damsgaard. Nato a Illinghe nel 3 luglio del 2000, il centrocampista potrebbe essere il primo di una serie di colpi green per il direttore Osti e per il presidente Ferrero. Cresciuto nel Lorgelland, ha esordito tra i professionisti il 27 settembre del 2017 a soli, 17 anni, in una partita di Coppa di Danimarca, fornendo anche un assist. Con i danesi, nonostante la giovanissima età, Damsgaard può vantare già 56 presenze impreziosite da ben 10 reti, segno di essere uno di quelli che, come si dice in gergo, vedono la porta. Già nel febbraio scorso i blucerchiati avevano blindato il ventenne scandinavo, parcheggiandolo però in Danimarca sino al termine della stagione, poi dilaniata dal dramma della pandemia. Con qualche mese di ritardo, dunque un altro nordico, dopo i vari torsby, Aschilsen ed Ekdal alla corte di Ranieri per tentare un'altra scalata alla salvezza. La mia prima impressione era così buona, quindi non avevo capito di dubbio se volevo signare. E poi questo set up era perfetto, ho ancora 6 mesi per finire la liga a casa e poi potrei preparare bene e venire qui. Genoa è una città molto bella, mi piace camminare, è molto bello vedere la montagna e l'acqua e tutto questo.